Allora, io riprenderei le fila da dove le ho lasciate. Anno Domini 1500. Tondo. Cosa succede nel 1500 a Milano? Ludovico Il Moro viene sconfitto definitivamente dalli francesi, da quel Luigi XII che peraltro era suo cugino primo, e Leonardo prende e lascia Milano. Lascia Milano annotando sul tacquino L dei suoi manuali questa fredda annotazione. Il Duca, perso lo Stato e la roba e la libertà e nessuna opera, si finì per lui. Tutto qui. 18 anni di servizio a Milano si chiudono con questa annotazione assieme a tutte le conseguenze soprannotate per taluni cortigiani. E ciao. Prende, se ne va in Friuli, al servizio della Serenissima, passando per Vaprio, per Mantua e per Venezia. E poi dopo si sposta, dopo questi sopralluoghi fatti nell'Isonzo, si sposta in Romagna al servizio del Valentino Cesare Borgia e da lì a Firenze. Ricompare nel 1504. Per fare che cosa? Per fare un monumento a Gian Giacomo Tribulzio. Chi era Gian Giacomo Tribulzio? Gian Giacomo Tribulzio era un personaggio arcigno, volitivo, piuttosto crudo. Era un uomo milanese, era nato, diciamo così, al servizio degli Sforza e poi si rivoltò contro gli Sforza. La storia, non ve la racconto, la storia del Tribulzio. Tribulzio che era, come dire, un feudatario che aveva i suoi possedimenti nella quella che è adesso la Svizzera italiana, la Svizzera italiana, l'Alticino e la Val Mesolcina che è quella, come dire, che è dei grigioni italiane. In questo luogo lui riusciva a battere moneta e a governare. Insomma, il Tribulzio sta facendo, chiama Leonardo per fargli un grande monumento a chi? A se stesso. Piuttosto presuntosetto lo metto. Lomone, corazziere, combattente e quant'altro. Lui vuole un monumento davanti, vicino alla sua palazzo, che è in corso di Porta Romana, davanti alla Basilica Apostolorum, che è una delle grandi quattro basiliche di Milano, poste più o meno ai quattro policardinali della città. E quindi Leonardo gli disegna, e ci sono una dovizia di bozzetti, di schizzi, bellissimi, sono quasi tutti a Windsor. E persino c'è sul Codice Atlantico il preventivo delle spese. Un preventivo dettagliato, quasi un capitolato speciale d'appalto. Con tutte le cifre, e qui ve ne ho dato un riassunto del primo pezzetto, a destra vedete il foglio del Codice in originale, la fine di tutta la sua somma, con tutti gli annessi e connessi, arriva a circa 3.000 Ducati, con un corsiero grande al naturale, con l'uomo sopra, eccetera, eccetera. Ma perché quest'opera non andò mai in porto? Era troppo esosa la parcella? Non credo. È una di quelle incompiute che si aggiunge alle filse dei progetti di cui abbiamo messo di descrizione nei codici, salvo l'opera realizzata. E' parte intrinseca del carattere, di elaborare, inventare e poi dedicarsi ad altro. Anni di lavoro inconcludenti. Ed è probabile che nel frattempo il Tribulzio si sia affidato alle proposte di qualcun altro, Bramantino in particolare e Martino dell'Acqua, per farsi fare questo parallelepipedo gigantesco davanti alla Chiesa. E questo parallelepipedo obbliga i fedeli a rendere omaggio ai defunti, cioè alla famiglia Tribulzio, volenti o nolenti i fedeli, altrimenti non possono entrare in basilico. O è un caso unico al mondo, dove un laico e nemmeno reggente viene anteposto al potere divino. Anche l'opera, peraltro, di questo colossale mausoleo rimane a mezzo, almeno nella parte di facciata. All'interno noi vediamo questo sobrio e puro rinascimentale vano, con agli otto lati i sepolcri sovrastanti chi passa e quello principale, cioè quello che poi sarà dove verrà sepolto il Tribulzio, con la scritta Colui che mai fu quieto è inquiete. Taci! No, ma taci tu che passi! Non tace lui, taci tu! Bene, al Tribulzio subentra a Milano un personaggio straordinario. Si chiama Charles Chaumont d'Amboise, che è un uomo vicinissimo a re Luigi XII, nipote di un cardinale, ed è il momento in cui Milano raggiunge la massima apoteosi economica e di prestigio internazionale. Milano, dovete sapere, è oggi più oppolente e abbondante in città d'Italia e quella ove più s'attenda a fare che la tavola sia grassa e ben fornita. Ella, oltre la grandezza sua, accoppia di ricchissimi gentiluomini milanesi, dei quali ciascuno per sé sarebbe sufficiente ad illustrare un'altra città. I milanesi in ogni cosa tendono più all'essere e al vivere bene che al parere. Sono poi tutti molto vaghi delle belle donne, delle quali assai ce ne sono, e tutti fanno a forestieri molte carezze e li vedono molto volentieri. Beh, questa è una narrazione di Matteo Bandello in una novella e sembra un ritratto veramente straordinario di questa città. E quindi, quando Chardinboise riguole a sé Leonardo, in realtà Leonardo si trova a Firenze a servizio del Soderini per attendere a quella grandiosa opera della battaglia di Anghiari che sta a Palazzo Vecchio, o meglio, che stava a Palazzo Vecchio. L'opera, sapete benissimo, è andata perduta. Abbiamo il retratto, cioè lo schizzo, di Rubens e abbiamo anche questa tavola d'oria su cui ci sarebbe da aprire un cinematografo perché fu rubata, recuperata in Giappone e poi finalmente ritornata a Firenze dove stava. E corso, il restauro in corso, la sua attribuzione è incerta, forse per mano di un artista fiorentino, il Poppi, o forse anche di mano propria di Leonardo. Sta di fatto che una trattativa fra i due governatori permette a Leonardo di arrivare a comando per tre mesi, 1506, a Milano. Però, a termine del comando c'è una proroga. Però c'è la penale di 150 fiorini se non rientra. In realtà, Leonardo lascerà Milano nel 1513, sette anni dopo. Sarà un periodo in cui lavorerà moltissimo. un periodo di grande fertilità creativa, studi di geografia strategica sui territori sottratti alla Serenissima, studi idrografici sulle gole dell'Adda, ingegneria, architettura, urbanistica. Leonardo alloggia nel quartiere di San Babila, Corso Venezia, in cui oggi troviamo il palazzo Pontana Silvestri, quello che vedete in questa foto, che è probabile, tra l'altro, questo palazzo è probabile opera di Bramante. No, non sappiamo se lui stesse in quello o in altro palazzo. Sta di fatto che di quella, proprio partendo da lì, Leonardo traccia la famosa mappa di Milano, quella che vedete alla vostra destra, che però non è una mappa. Uno studioso, non accademico, che si chiama Char Duan, ha scoperto l'enigma di questo disegno, che vedete, ha proprio il giro della cerchia dei navigli tracciato a compasso. È in realtà un brogliaccio di campagna. Il maestro Vinciano aveva utilizzato questo brogliaccio di campagna, che è grande come un foglio a quattro, per misurare a passi l'intera cerchia dei navigli. Duan l'ha rifatto, ha provato, ha controllato quei numeri che vedete incolonnati sulla vostra destra e, alla fin dei conti, ha dimostrato che così era. Leonardo aveva camminato nella cerchia, aveva tradotto i passi propri in braccia milanesi e aveva misurato in quello che oggi sarebbe la definizione del conto in sei chilometri. E la cerchia dei navigli è esattamente sei chilometri. Fra le attività più gustose che troviamo nei manuali leonardeschi, nei fogli leonardesti, c'è l'incredibile progetto per la villa del governatore d'Ambuasi da realizzarsi lungo il Neronde Santo Andrea, cioè tra le attuali Via Monte Napoleone e Via Santa Andrea. E leggiamo che cosa ha scritto. farassi mediante il mulino molti condotti d'acqua per casa e fonti in diversi lochi e alcuno transito dove chi passerà per tutte le parti di sotto salterà l'acqua in su e così farà apposta di chi vorrà bagnare sotto le femmine o altri che di lì passerà. di sopra faremo una sottilissima rete di rame la quale coprirà il giardino e rinchiuderà a sé molte varie sorte di uccelli e così avrete musiche continue insieme con gli odori dei fiori dei cedri dei limoni col mulino farò continui suoni di vari strumenti i quali tanto soneranno quanto durerà il moto del mulino che meraviglia guardate quel dettaglio alla vostra destra in basta non rappresenta un edificio di quell'ecroca ma i giochi d'acqua che furono realizzati al castellazzo di Bollate nella stampa di Marco Antonio dal re perché? vediamo il castellazzo di Bollate ebbe appunto nel diciassettesimo secolo la realizzazione di un giardino meraviglioso con quei giochi d'acqua che sono esattamente la riproduzione dell'idea leonardesca per il d'amboise ma come era possibile questa cosa? è molto semplice dentro quel palazzo si conservavano in originale i fogli del codice atlantico e questo perché e questo perché questo signore che si chiama Galeazzo Arconati fu l'artefice del salvataggio del codice atlantico di tutto il compendio dei disegni di Leonardo perché lui acquistò da Pompeo Leone tutto il compendio che lui Pompeo Leone in gran parte aveva appunto rilegato in un enorme quadernone che per le sue dimensioni aveva chiamato Atlantico Arconati era un grande collezionista d'arte e cimeli lui aveva titoli nobiliari e conoscenze la moglie aveva i denari usò i primi per scovare i pezzi rari ed acquistarli i secondi cioè i denari per comperarli aveva anche un figlio prediletto come Leonardo figlio fuori matrimonio si chiamava Francesco e naturalmente la consorte Matrigna lo detestava e allora cosa fece cosa fece Galeazzo Arconati quando capì che era ormai giunta la sua ora si accordò con Federico Borromeo cardinale suo cugino e per tutelare il figlio che nel frattempo aveva fatto frate Domenicano fece un accordo con Federico donò lui e quindi all'Ambrosiana tutti i documenti leonardeschi purché Francesco potesse per tutto il resto della sua vita lavorarci sopra e traslitterarsi e quindi grazie all'amore del padre verso il figlio che il codice e i diversi quaderni si salvarono nella biblioteca ambrosiana poi nei secoli successivi il tribolziano finì al castello e tutti gli altri se li portò via Napoleone facendosene diotta rifurtiva per il suo Louvre anni dopo il codice tornò a Milano ma i quadernetti tutti i quadernetti piccolini no e che dire di Villa Borromeo Litta di Lainate il cui ninfeo anche lui coi giochi d'acqua fu progettato da Martino Bassi negli anni 80 sempre del XVI secolo possibile che il conte Pirro I Borromeo figlio di un tribolzio di una tribolzio non avesse mai avuto idea dei disegni del progetto leonardesco o più tardi Santino Solari quell'architetto della Val di Intelvi che fece i giochi d'acqua a Villa Helbrun vicino a Salisburgo domande che non hanno risposte certe ma probabili Leonardo nel periodo milanese soggiornò parecchio dall'amico Girolamo Melzi a Vaprio in una villa meravigliosa del 1483 che qualcuno dice potrebbe essere di mano leonardesca ma non è così semmai di mano leonardesca sono i progetti per dei sopralzi e degli ampliamenti che non vennero mai realizzati come sempre e da lì che Leonardo esplorò l'Adda e soprattutto vide crescere un bimbo che la prima volta nel 1500 aveva dieci anni dal 1506 questo bimbo Giovanni Francesco ormai teenager si direbbe oggi ma è quasi adulto lo avrebbe seguito fino alla morte ne avrebbe raccolto le carte le avrebbe studiate e ricomposte in buona parte suo fu tra l'altro il trattato di pittura che oggi sta in Vaticano e al giovane Francesco Melzi oltre ad alcune bellissime sue opere dobbiamo la possibilità di conoscere gran parte degli scritti del Mancino e quello è il ritratto probabilmente suo fatto dal Voltrapio sempre allievo di Leonardo che sta in Ambrosiana ecco qua il disegno forse più celebre dell'Adda quello del traghetto a fune che non è il traghetto di Inversaro ma è il traghetto di Vaprio guardate qua l'immagine scattata dalla terrazza della villa Melzi di Vaprio vedete esattamente lo stessa la stessa angolatura lo stessa ponticella tre arcate che ritrovate nel disegno che sta Windsor e questo invece è il traghetto facsimile ricostruito a Vaprio in acque più placide questo è l'incile della martesana a Concesa nella opera di Leonardo e nella realtà attuale al posto di quelle casette di quella fortezza c'è la villa Gina dove ha sede oggi il parco della Adda Nord e questo molto simile con un'analogia fortissima è la gola dei tre corni a Paderno dopo Paderno e Adda che qui vediamo sia nel disegno di Windsor sia nella realtà fotografata da me lungo la pista ciclabile che scende da Brivio da Paderno la grigna ecco la grigna guardate la grigna di Leonardo e guardate la grigna o meglio la grignetta nell'immagine vera e per concludere il viaggio attraverso le esperienze di ingegneria non si può non parlare dell'idea del progetto che il re e Chaumont d'Amboise commise a Leonardo cioè di studiare come fare quel passaggio di collegamento collegamento fra la zona di Brivio e Porto d'Abda dove non era possibile passare con le barche per le gole Leonardo studia un canale si è innalzato il fondo di una balestra sotto questa chiusa ciò che l'acqua si ingordi e stia senza corso tela grossa infra l'armadura e l'acqua e infra l'acqua e il fondo facciasi una concavità nei tre corni dove si fermi il muro che chiude l'acqua cioè la diga Leonardo progetta questo naviglio e Francesco I di Francia il re che succede a Luigi XII alla sua morte darà commessa per realizzarlo ma questo naviglio non si realizzerà che un secolo dopo nel frattempo Leonardo continua a studiare sale probabilmente sul Monte Barro e qui si prova a riprodurre la situazione dei laghi Briantei e a studiare esattamente come fare per collegare tutto il sistema insieme io mi fermo qui sulla parte di descrizione del perché Leonardo nel 1513 probabilmente compreso di tutto quanto sta succedendo nelle battaglie tra francesi svizzeri veneziani e quanti altri capisce che è ora di fare le armi e bagagli ed andarsene e questa volta per sempre l'ultima immagine che noi abbiamo è quella dei fuochi ad ex che è probabilmente edesio cioè quelle scorrerie degli svizzeri che fecero durante quel periodo di battaglie molto sanguinose ma non voglio chiudere questa chiacchierata senza aver parlato di alcune opere ritratti di Leonardo questa è la famosa Isabella d'Este a tratto che si trova a Louvre e un cenno particolare vorrei fare a Luca Pacioli Luca Pacioli sapete fu in amicizia dal 1495 con Leonardo e insieme lavorarono intorno al De Divina Proporzione Leonardo disegnò i ben noti poliedri che poi furono realizzati come macchetti in legno nella sua bottega o meglio in botteghe a lui vicine ed esposti appesi ad un filo e trattati davanti al moro in occasione di un scientifico duelle il 14 dicembro del 1498 in quello stesso De Divina Proporzione dedicato apposta a Ludovico al Moro troviamo l'alfabeto di Pacioli che altro non è che l'alfabeto che Leonardo utilizzava nelle sue pitture e nei suoi cartigli lo troviamo lì per esempio nel cartiglio Versus della Ginevra Benci come sul Cenacolo e in altre opere ancora e siccome dicevo dei ritratti quello più intrigante di tutti è questo ritratto proprio di Ludovico al Pacioli attribuito che sta a Napoli a Capodimonti ed è attribuito a Jacopo De Barbari un pittore veneziano di scuola fiamminca che però tutto è forché essere di un pittore veneziano perché guardiamo bene questo quadro questa tavola ritrae tutti gli elementi del Divina Proporzione eccoli qua il rombicubo traedro trasparente che poi vedremo meglio il libro di Euclide aperto sulla pagina che si visualizza sulla lavagna il libro Summa che è la prima opera del Divina di Pacioli e un cartiglio molto particolare guardatelo Jakobar Vigenis punto 1495 una mosca sopra ma quando mai si firma un ritratto in questo modo un'opera in questo modo ma è possibile che un personaggio che non sia un poco eccentrico e che non parli per enigmi abbia firmato in questo modo la sua opera una studiosa crittografa ligure che si chiama Carla Glory ha fatto tutto un lavoro giungendo alla fine a decrittare in una allusione chiara ai personaggi del mondo degli Sforza e in particolare a Galeazzo di San Severino e Galeazzo Gian Galeazzo Sforza Duca di Milano il primo secondo la storia avrebbe ucciso il secondo vediamo il particolare del ritratto di questo nobiluomo che sta accanto al Pacioli e vediamo altri ritratti di quell'epoca milanese a sinistra il musico proprio di Leonardo da Vinci e poi due ritratti attribuiti vuoi al Boltraffio vuoi al De Predis cosa hanno in comune sono personaggi vestiti allo stesso modo secondo la moda milanese quindi quel ritratto sicuramente non è veneziano sicuramente è milanese chi sia quell'uomo non lo sappiamo che sia Galeazzo di San Severino che sia Gian Galeazzo Duca di Milano che sia un'altra persona ancora insomma la Glory fa le sue considerazioni però certo è guardate quel imbottitura della casacca è probabilmente di Gepardo così come i due al centro e così pure guardiamo il volto di Pacioli e vediamo che somiglia maledettamente ad alcuni disegni ricorrenti nei disegni di Leonardo così come di grande qualità e fattura è quel cristallo con l'acqua dentro con un personaggio che si intravede e rispecchiato un palazzo ma Santa Pace questo è un grande maestro non può che essere un genio aver pensato quest'opera probabilmente non è di sua mano perché quella panneggio non è di qualità leonardesca il tratto non è leonardesco ma sicuramente scuola e bottega sua e per concludere vi parlerò di due opere una è la bella principessa che fu venduta all'asta di Cristis per poco più di 20.000 dollari cioè il costo di una panda dopo l'acquisto all'asta di quest'opera vi furono ricerche indagini e si scoprì che era disegnata e dipinta su una pergamena originale del XV secolo non solo ma da mano mancina lo studioso leonardista Martin Kemp addirittura si rese conto che secondo lui era tagliata da una pagina della Sforziade che è un'opera di Simonetta che viene conservata a Varsavia e che era un'opera dedicata a Gian Galeazzo Sforza già si chiude il cerchio trovato un ritratto di Leonardo da Vinci sarebbe Bianca figlia naturale del Moro quella data in sposa a 16 anni al San Severino e poi morta un anno dopo fosse così semplice poco tempo fa è comparso sulla scena un noto falsario londinese che se ne è attribuito alla fattura utilizzando sì una pergamena antica ma ritraendo una bella commessa di un supermercato mitomania o abilità questo non sappiamo e non ci resta che per concludere il nostro viaggio un ragionamento sul ritratto più famoso di tutti chiariamoci subito è di Leonardo non c'è dubbio però vorrei aggiungere qualche aneddoto attorno alla persona che viene ritratta incominciamo a dire del vestito il vestito è vedovile e sopra di esse si vedono delle decorazioni che sono i famosi nodi vinciani che ricorrono a Milano non a Firenze come ha osservato la stessa Gloria che citavo prima e poi ricordiamoci il De Beatis che a Claude Lusset alla morte di Leonardo rileva due ritratti signora di Lombardia e una signora di Gualanda e secondo Vecce che è uno studioso contemporaneo sarebbe quell'ultima da Lisabella ritratta in Roma mentre Vasari quando ci descrive Monna Lisa parla di un'opera che è abbastanza diversa da quella lì e non è finita qui al Prado si trova un retracto cioè un'opera copiata ma copiata quando? copiata oggi lo si sa nello stesso periodo in cui Leonardo dipingeva l'originale quindi quell'opera è della sua bottega ma guardate i due volti uno è giovane e l'altro è più anziano come è possibile? come è possibile? non solo ma dietro la gioconda famosa quella del Louvre ci sono primi abbozzi prime pitture e da quelle secondo esami che sono stati fatti si vede un volto più giovanile più simile a quello del Prado ma allora e guardate questa questa è la earlier gioconda puressa della stessa epoca forse c'è chi dice che è addirittura antecedente per non parlare di questa qua che nel 1504 Raffaello Sanzio schizza a Firenze sempre un volto più giovanile eeeh ma allora proviamo a fare a raccontare un enigma ma se questa signora fosse in realtà quella Giovanna quella ragazzina quella ragazzina che è morta a 16 anni e che lui amava amava fortemente se l'è portata dietro questa pittura l'ha ritratta allora e poi piano piano ha cominciato a portarsela dietro nell'età fino al 1519 quando in Francia è passato a miglior vita e piano piano l'ha invecchiata l'ha invecchiata era la sua passione e questo spiega questo volto enigmatico questo personaggio impalpabile questo personaggio che tutto il mondo oggi conosce come Gioconda sarà così non sarà così non lo so se volete saperne di più la roba è la libertà Leonardo Ludovico editore Mursia io adesso esco dalla share ecco e tra l'altro se volete riconnettermi potrei vedere adesso vediamo un po' se riesco a tirar via grazie a tutti grazie a tutti